Stop agli Euro 3 diesel e riscaldamenti abbassati di un grado a partire da venerdì. Il comune di Como va verso un provvedimento soft rispetto a quanto ci si attendeva, soprattutto alla luce di otto giorni di superamento continuo dei valori di polveri sottili. Dopo una giornata intera di consultazioni e riunioni, la Giunta e il sindaco di Como non hanno introdotto le targhe alterne, così come era stato ipotizzato dallo stesso Marlucini, ma hanno optato per un'estensione agli auto Euro 3 delle limitazioni invernali e il traffico imposte da Regione Lombardia. Dal 15 ottobre al 15 aprile il Pirellone blocca da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 gli Euro 0 benzina e gli Euro 0, 1 e 2 diesel. In pratica il comune di Como estenderà questo divieto anche agli Euro 3 diesel, auto che hanno tra i 9 e i 14 anni. Le macchine Euro 3 infatti sono state immatricolate a partire dal 2001 e nel 2006 è entrata in vigore la direttiva successiva, la Euro 4. Manca ancora la firma dell'ordinanza del sindaco, ma la direzione del comune sembra chiara. Le Euro 3 diesel non potranno circolare a partire da venerdì. Per i veicoli privati il blocco va dalle 8.30 alle 18, mentre i veicoli commerciali dovranno stare fermi dalle 7.30 alle 9.30. Una manovra, quella del comune di Como, che senza dubbio impatta in modo lieve sulla mobilità dei cittadini, salvaguardando anche le esigenze del commercio settore, il cui bilancio dipende in buona parte dalle vendite natalizie. Al tempo stesso però è difficile che un simile provvedimento da solo basti a ridurre le polveri. Nel tentativo di rendere l'area della città più respirabile, il comune, sempre a partire da venerdì 11, ossia da dopodomani, imporrà anche l'abbassamento di un grado per i riscaldamenti degli edifici. Tutte le misure, sia le limitazioni al traffico, sia l'abbassamento dei riscaldamenti, resteranno in vigore fino a quando le centraline ARPA non registreranno per tre giorni consecutivi valori al di sotto della soglia limite, ossia 50 microgrammi al metro cubo. Quindi, se la linea venisse confermata, ecco i contenuti dell'ordinanza. A partire da venerdì, auto Euro 3 diesel ferme dalle 8.30 alle 18 veicoli privati e dalle 7.30 alle 9.30 veicoli commerciali e riscaldamenti abbassati di un grado.